Ciao a tutti amici dello scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi chakra spiritualità. Si sono già girate, no sono troppe, parlerò di tarocchi chakra spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami lo scorpione e le energie affettive della prima metà di gennaio 2023. Abbiamo la carta del diavolo amici dello scorpione. Periodo probabilmente un po' pesante, può essere che qualcuno qui si senta condizionato da una determinata situazione o relazione anche. C'è qualche tipo di tossicità. Andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi di che cosa si tratta. Scusate, con i tarocchi, i mini tarocchi dopo. Io intanto vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che più vibra con voi e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi. Trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e trovate anche il link al video del corso di tarocchi che inizierà a fine gennaio, inizio febbraio 2023. Il termine per le adesioni è il 15 di gennaio, quindi le persone che si iscriveranno dopo verranno slittate automaticamente nel corso successivo e nel video spiego il programma del corso e le modalità di svolgimento. Poi se avete bisogno di ulteriori informazioni potete sempre mandarmi un email. Cominciamo con un cavaliere di coppe, un asso di coppe al contrario, un due di bastoni, la carta dell'appeso, la regina di bastoni, abbiamo un 6 di coppe e un 3 di pentacoli. Non male, non male perché partiamo con questo cavaliere di coppe. Credo che qui sia la persona di vostro interesse o una persona che avete conosciuto da poco o che state per conoscere. Normalmente quando c'è un cavaliere di coppe si parla di un'offerta, di una persona che fa un movimento nei vostri confronti. Diciamo che c'è un asso di coppe, potrebbe esserci un inizio ma è come se non foste tanto convinti o per qualcuno ho molto forte la sensazione che è come se non vogliate innamorarvi. Il due di bastoni infatti mi dice che siete in una fase di indecisione, di come vi posso dire, sto in una zona di comfort e di sicurezza oppure mi sposto, provo qualche cos'altro, provo una nuova avventura. E qui con la carta dell'appeso ragazzi è molto forte questa sensazione di ok, piuttosto che sbagliare sto fermo e non faccio niente. Vediamo poi che abbiamo una regina di bastoni, un 6 di coppe e un 3 di pentacoli. Ragazzi io vedo che può essere sia il cavaliere che la regina o uno dei due siete voi o è semplicemente un'offerta quella del cavaliere e la persona che arriva può essere che arrivi in un modo un po' più deciso e entusiasta verso la seconda parte di gennaio. Vi dico che poi c'è un 6 di coppe, 6 di coppe è una carta anche di anime gemelle, è una carta che parla di quella relazione da fiaba, quell'amore corrisposto, quell'amore anche un po' romantico che si vive quando si è adolescenti e per molti versi fa riferimento a qualcuno del passato. E qui abbiamo un 3 di pentacoli, quindi è come se si andasse verso un eventuale, una potenziale progettazione. Allora, vederle così le carte, l'unico punto dove posso vedere un po' di tossicità rappresentata dal diavolo è nell'appeso, nel senso che può essere che vi siate un po' fossilizzati su determinati pensieri. Però andiamo a vedere con i mini tarocchi che sfumature posso darvi di più, cosa posso dirvi ancora. Io intanto vi comunico che ho già pubblicato l'oroscopo del 2023, sono 4 per ogni segno e li trovate nelle playlist del canale. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Allora abbiamo un asso di spade e un 3 di coppe. Fatemi vedere anche l'asso di coppe al contrario. Allora l'asso di spade quando è al contrario parla di qualche tipo di verità nascosta e considerato che c'è un 3 di coppe, qui ci potrei vedere un po' di energie del diavolo, nel senso che potrebbe essere che qui qualcuno abbia nascosto o stia nascondendo una terza energia, che non è detto, ripeto sempre, che sia un'energia di tipo romantico, può anche essere semplicemente una madre ipotesi, perché qua abbiamo la regina di coppe che magari mette un po' troppo il becco nella vostra relazione. Sta di fatto che c'è qualche cosa che qui non è stato pienamente detto con il tipo di offerto di avanzamento che è arrivato da questo cavaliere di coppe. E di conseguenza capisco anche questo asso di coppe e la vostra titubanza a iniziare. Qui io sento che molte persone avrebbero la volontà. Per qualcuno si tratta della nascita di un figlio, ok? Perché ho forte la sensazione che vogliate andare avanti ed espandervi in quello che è la relazione, però è come se ci fosse, ripeto, andiamo a vedere due di bastoni, una sorta di indecisione. Dieci di coppa al contrario, ho come la sensazione che qualcuno non abbia tutta questa voglia di creare una famiglia in questo momento. Difatti, credo che ci siano parecchi conflitti interiori con questo 5 di bastoni e l'8 di spade vi impedisce di vedere le cose chiaramente. Guardate, stavo guardando la figura di questo 2 di bastoni, è interessante perché è un po' come se si nascondesse. Andiamo a vedere l'appeso. Ecco, si è girato giusto un altro appeso. Ho come la sensazione che qui qualcuno non si sia rassegnato al fatto che questo asso di coppe sia il contrario. Vi dico questo perché? Perché l'asso di coppe parla di nascite, parla di figli, parla di concepimenti, il mondo parla di figli, la regina di coppe è collegata a tutto quello che è l'amore incondizionato di una madre alla maternità e il 9 di pentacoli alle volte parla anch'esso di maternità, di terreno fecondo per capirci, no? Quindi ho come la sensazione che ci sia qualche tipo di senso di inadeguatezza in questo senso e che si faccia fatica ad accettare qualche tipo di questione. Tenete presente che essendo il contrario parla di dipendenza e essendo un 9 di pentacoli può essere che non siate indipendenti a livello economico per fare questo passo, per iniziare, per cambiare il vostro mondo. Ed è un po' quella la fase riflessiva che condiziona secondo me questo tipo di scelta. Tenete presente che con l'otto di spade è un po' come se vi stesse facendo male i conti perché vedete più, più nero di quello che è. Andiamo a vedere la regina di bastoni. 9 di coppe è il contrario e 6 di spade. Ho come la sensazione che riprendiate un po' di più il vostro potere in mano. Se qui eravate più in una fase di passività, di osservazione, di pensiero, qui è un po' come il ok, che cosa è mio. Vi rendete conto che non siete pienamente soddisfatti, che vi manca qualche cosa. Andiamo a vedere questo 6 di coppe. Abbiamo un 10 di bastoni e una regina di bastoni, che è qui la regina, quindi un'energia che si ripete. Allora, può essere, perché qui fa riferimento all'infanzia e questa fa riferimento al lasciarsi indietro delle responsabilità che non sono nostre. Ho come la sensazione che per qualcuno sia il ruolo che si sta svolgendo o dentro il quale ci si sente intrappolati, che bisogna ridimensionare. Qua bisogna deresponsabilizzarsi di qualche cosa, che arriva da retaggi del passato, ragazzi. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. E anche qui ho il 6 di spade, eh? Sì, è un nuovo modo di vedere la vostra vita, mi viene da dire. 8 di pentacoli. Sì, allora, in realtà la lettura finisce molto bene, perché c'è un 3 di pentacoli, una carta che parla di progetti, di collaborazioni. Qui abbiamo la carta del lavoro, abbiamo la carta dell'apprendista, dello studente. Quindi c'è qualche cosa che si muove, ma è come se qui dovesse togliervi dalla responsabilità o di qualcuno, o delle idee di qualcuno. Perché è come se vi rendeste conto che quello che vi siete aspettati fino ad adesso in realtà non vi rende appagati. C'è semplicemente da accettarlo. Qui io sento che lo sapete, vi sentite in questo asso di coppa il contrario, come se non foste corrisposti. Nel caso, per esempio, non fosse la situazione del bambino per voi. E qui bisogna cambiare qualcosa. Nella seconda parte del mese, questo 10 di bastoni, vi dico che vi darà la possibilità di alleggerirvi, ok? Di molte cose che riguardano il passato. Idee, aspettative. Guardate che bellissima carta che vi è venuta. Nuova fase, rinnovamenti, trasformazione, crescita. Quindi è una bellissima carta, devo dire. Guardate, se devo guardare il diavolo, in questa lettura, lo sento nel suo punto luce. Cioè, quello su cui vi dovete focalizzare è il vostro potere mentale. Perché è qui il punto, eh? Andiamo a vedere una carta da parte degli angeli. vero amore. Questo è l'amore della tua vita. Quindi se per qualche motivo avete, come dire, acquisito delle forme pensiero che vi impediscono di lasciarvi andare con questa persona che viene a farvi un'offerta, sappiate che è il vero amore. Cioè, c'è da fare un lavoro, probabilmente, su di voi, o da lavorare ad un progetto, ma fondamentalmente potrebbe essere una relazione da sogno. Vi ricordo che sei di coppia è anche la carta del sogno, eh? Poi abbiamo soldi e lavoro, e qui lo vedo. In questo momento le questioni economiche rappresentano un fattore importante nella tua vita sentimentale. Probabilmente qui, come vi dicevo qua, no? C'è qualche cosa che vi fa sentire indipendenti o anche un po' bloccati con la carta dell'appeso. E poi abbiamo sentimenti romantici. I tuoi sentimenti sono reali e vale la pena di esaminarli. E qui lo metterei qua vicino per esaltare questo gruppo di carte, insomma. Bene, cari amici dello Scorpione, io spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Se, insomma, vi è piaciuta e vi è aiutato, potete sempre mettere like, potete iscrivervi, potete condividere, potete commentare. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io ringrazio tutti per gli auguri che mi avete fatto e ricambio nuovamente. Spero che possiate iniziare il 2023 in modo splendido, con tanta prosperità. Buon inizio di gennaio. Io vi mando un abbraccio forte e niente, ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.